Yo, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Allora ragazzi, il mio studio con Red Bull Dance Connect sta continuando, sto continuando a guardare i tutorial Cerco di metterli in pratica, tutti i consigli dati, volta per volta Quindi quando mi alleno provo a riferire un po' tutte le cose prese a tutti gli insegnanti Tutto quello che dicono gli insegnanti Bene, oggi è la giornata dedicata a TweetBully Questa regina del Bronx è venuta a spiegarci delle cosine Quindi oggi sono andata a studiare virtualmente con TweetBully Anche se è venuta a Milano ma per problemi di lavoro non sono potuta andare a studiare con lei Quindi la prossima volta devo solitamente andarci Quattro? 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 My name is TweetBugy I don't want you to be heavy. Step two. Step two is using the left leg. I'm going to start with my right leg. You're going to start with your left leg, okay? So the right leg, my right leg, is going to go up, down, up, down, up, down, up, down. Six, seven, eight, up, down. Again, seven, eight, don't fall. So we're going to go from front to back, front to back. This will be step numero tres. So you have front, back. You're going to bring that left leg up, down, up, down. The same time that you're hopping. Let's try that again. Up, down, up, down. So, and one, two, three, four. To the front, to the back, 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 to the front, to the back. Hand one, hand two, hand three, hand four, hand five, hand six, seven, eight. Hand one, hand two, hand three, hand four, hand five, hand six, hand seven, hand eight. adesso lo stiamo facendo sia a destra che a sinistra quindi cosa faccio? avanti, dietro, avanti, centro e poi da l'altra parte avanti, dietro, avanti, centro quindi hai quattro ritorno in questa posizione per poi iniziare tutto da l'altra parte adesso andiamo avanti, vediamo un po' to the front to the back to the front to the center συν pillars up front hop back hop front hop center hop front hop back hop front hop centri six seven let's go hop one hop two hop three hop four hop five six seven 1 more again! 1 two three four five six seven eight Quindi adesso provo a allenarmi con questo passo qua un po' con la musica. Seguendo appunto i suoi consigli. Vi ricordo di provarci anche voi e inviatemi i video poi su Instagram. Non ho mai studiato con lei. Però il prossimo stage che farà sicuramente qua in Italia e ce ne avrò la possibilità magari sarò da qualche parte in America, New York, non lo so, lo spero. Devo studiare assolutamente con lei. Bene ragazzi adesso provateci anche voi. Vi ricordo di mandarmi i vostri video dove vi allenate, dove provate anche voi a fare questi tutorial. Così lo inserirò nel prossimo video e studiamo insieme. Se vi è piaciuto il video lasciate un pollicino su. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Seguitemi su tutti gli altri miei social. E noi ci vediamo nel prossimo video. Yo! Iscrivetevi al canale